Promuovere l'architettura di qualità come strumento di miglioramento della vita. E' questo lo spirito di Architects Party, iniziativa giunta alla seconda edizione, e che coinvolge dieci studi di architettura di Napoli al fine di trasformarli nel luogo perfetto dove coniugare socialità e creatività. Nell'ambito dell'evento, che si è svolto ieri nella sede del PAN di Via dei Mille, lo studio Labyrinth ha aperto le porte a colleghi clienti e appassionati del genere per creare una sorta di spazio di discussione fra aziende del design e gli utenti. Dal 2005, impegnato nel rilevare sempre di più nuove forme di design in chiave ecosostenibile e senza barriere architettoniche, lo studio che ha organizzato l'evento ha sviluppato il progetto per un grande attrattore turistico nel centro storico di Napoli al fine di rendere accessibile ai portatori di handicap motori il sottosuolo. Nel corso della serata è stato possibile visitare gli spazi dove vengono progettate le idee con l'obiettivo di ridurre la distanza fra operatori del settore e utenti e di sensibilizzare il pubblico all'architettura di qualità come strumento di miglioramento della vita.